Ci raccomandiamo lì? Sì. Faccio stare. Loro ci stanno. Loro ci stanno. Grazie. Questi vanno meglio. Questi vanno meglio. Ho preparato un po' di... A che ora devo andare via? Con il cibo, con il colazio. Prego, io non riesco ancora a collegare. Almeno vedo che... Famiglia? Quindi almeno vi ho riunito. Vede che vi siete salutiati adesso. Io con chi ho parlato? Con una nipota? Che non ha piaciuto essere qua. Sì, no, non è possibile.